Ben trovati, ormai siamo alle porte del Natale, siamo ancora una volta qua come abbiamo accompagnato tutto l'Avvento alla Basilica di San Paolo, chiediamo ancora una volta la sua intercessione perché questa parola seminata nel nostro cuore possa portare un frutto di gioia e di serenità così come Maria ha concepito il figlio, così anche noi possiamo dare alla luce la parola fatta carne nella nostra vita ascoltiamo il Vangelo in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria il bambino le sussultò nel grembo Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo a che debbo che la madre del mio Signore venga a me ecco appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore allora Maria disse l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva l'attesa sta dunque per finire il Signore è venuto grazie a tutti